L'Accademia del Gusto riprende il suo itinerario gastronomico dalla gira con una serata tutta dedicata al muscolo ripieno, uno dei piatti tipici della spezzinità. Abbiamo parlato della mitilicoltura, della nostra tradizione di questa attività agricola del mare, delle prospettive economiche e dei piatti tipici che vengono cucinati attraverso i muscoli. Una serata che ha avuto tanti ospiti all'insegna del buon cibo e della compagnia. È stata una serata magnifica condivisa con tanti amici perché qua nel territorio noi come cooperativa dei mitilicoltori spezzini siamo una realtà storica che siamo presenti dal secolo scorso e nella comunità siamo importanti perché diciamo viviamo in ogni quartiere, in ogni borgata come un'entità vera e viva. Noi lavoriamo in mare, siamo lavoratori del mare, abbiamo il mare nelle vene, l'acqua nelle vene e per questo siamo riconosciuti come un'eccellenza di questa località, della spezia, del golfo e della regione. Quando c'è da fare qualcosa a livello regionale ci chiamano perché i muscoli della spezia sono riconosciuti in tutto il mondo come una particolarità. La particolarità è dovuta non tanto alla nostra abilità quanto al nostro territorio che è estremamente bello, positivo e quindi siamo orgogliosi di rappresentare con i nostri 100 soci una comunità che è veramente sinergica per un futuro migliore per tutti noi.